Dopo mezzanotte di Davide Ferrario, sono presenti Davide Ferrario, Francesca Inaudi, Giorgio Pasotti e Fabio Troiano, che erano registe e protagonisti del film. In prima fila Enzo Chico, Presidente della Regione, Domenico De Gaetano, Presidente del Museo del Cinema e Direttore Domenico De Gaetano. Scusate, ma io sono fuori da Regione e confondo i ruoli. Paolo Manera, perché è un amico, l'ho uscito esclusivamente per quello, Film Commission. Vabbè, iniziamo con la prima domanda, è d'obbligo, poi spero che dalla sala ne arrivino. A Davide Ferrario, come passa veloce il tempo quando ci si diverte? Insomma, viene spontaneo? Sì, no, non so come dire. Confesso che ieri perfino io ho avuto un moto di commozione, nonostante mi consideri un rude bergamasco. bergamasco, ma davvero, quando li ho rivisti loro, loro che si sono mantenuti, che infatti... Sono uguali? Sì, il tema è questo. Più che restaurare film, bisognerebbe restaurare i registi, credo, certe volte. Però, insomma, bello, bello perché è bello rivedersi dopo tempo, come succede con gli amici, perché questi ragazzi qua non sono stati solo degli attori. Quindi abbiamo... quel mese che abbiamo vissuto dentro la mola è stata davvero un'esperienza più che un film. E' bello poi perché vedere che le cose che hai fatto, insomma, qualcosa da dire ce l'hanno ancora, come diceva il buon Primo Levi, fare delle cose non ignobili, questa doppia negazione, che la amo molto, cioè l'idea di fare qualche cosa che non è un capolavoro, ma è qualche cosa che hai sentito di fare perché era giusto farlo e proprio per quello è ancora lì e qualcun altro può vederlo e apprezzarlo per quello. E mi è sembrato, anche dalla reazione in sala di ieri sera, che il film non sia invecchiato, anche perché questo fatto... Cioè, ne parlavo adesso, ho fatto una riflessione curiosa se me la concedete, ma un pochettino più profonda, diciamo. Ma se uno faceva nel secolo scorso, negli anni 70, avesse visto un film di vent'anni prima, cioè degli anni 50, sarebbe stato un altro secolo. Assolutamente. E così per tutto il Novecento, credo, ogni dieci anni si rinnovava il mondo, da tutti i punti di vista. Curiosamente dagli anni 90, quando è arrivata la rivoluzione digitale, cioè che dovrebbe essere uno dei grandi salti dell'umanità, ma non cambia più un accidente. Cioè, se tu guardi un film girato dagli anni 90, a parte i telefonini, infatti di cui si parlava questo, i telefonini che c'erano nel 2002, tutto il resto è molto simile. E quindi, al di là di questi discorsi sociologici, il film, sempre girato adesso, non c'è niente che lo leghi a vent'anni fa, e anche, peraltro, per essere una storia deliberatamente un po' senza tempo, vagamente favolistica, è una cosa che può essere vista davvero da un ragazzo di adesso, con lo stesso senso. Sì, è proprio la chiave della favola, che, cioè, nelle nostre favole hanno radici preistoriche, quindi è evidente che poi... Come il cinema, è la favola del cinema, sostanzialmente, quindi è una cosa storia sempre valida. Francesca Inaudi, io, se non vado errato, come sbaglio, poi le cariche delle persone che vengono qui, che sono in prima fila, per te è stata la prima esperienza cinematografica? Sì. Eh, che impressione hai avuto? Oddio chi è quella? La memoria, no, no, ecco, è la cosa bella che io voglio riportare, invece no, c'è vent'anni di meno ma sono io, non è oddio chi è quella, quindi mi sono dato una pacca sulla spalla perché... Ma io non intendevo dal punto di vista estetico. No, 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 da un punto di vista, direi energetico, fa ridere come termine, ma insomma di intento, di qualità. Ho tentato, diciamo, per tutti questi vent'anni di conservare quella stessa ingenuità nell'approccio, che tante volte non è furbo come meccanismo, ma è coerente perlomeno, mettiamola così. Il ricordo che ho è di un frullatore, cioè un'esperienza, un'esperienza avvenendo sia io che Fabio dal teatro in realtà. Diciamo che l'abitudine era, ah ok, si gira di notte, sono abituata ad andare a dormire tardi, ottimo, però fondamentalmente lavoravo, dormivo, lavoravo, dormivo, lavoravo, dormivo, perché non ho avuto una vita per un mese se non dentro la mole, quindi è stata un'emozione grande, anche perché erano veramente vent'anni che non lo rivedevo. Quindi concordo con Davide, che quando qualche cosa è onesto ed è pulito nel suo nucleo, il tempo non scalfisce. A questo punto è obbligatoria la domanda ai protagonisti maschili dello stesso tipo, cioè che tipo di reazione avete avuto dopo 19 anni, Fabio Troiano o Giorgio? Stavo guardando la bellezza di questo posto. È molto bello. Sì, per evitare, se lo perdo almeno. No, è un po' come ha risposto Francesca, io mi ci sono ritrovato in me stesso, e non dal punto di vista estetico, ecco, più dal punto, quello proprio no, quello era un altro, dicevo ma chi cazzo è quello? Eppure ero io. No, però dal punto di vista, diciamo, del mood, di quello che mi appartiene, mi ci sono ritrovato molto. Ed è stata ovviamente anche per me la prima esperienza, ad essere catapultato dalla fine dell'accademia, perché io avevo appena finito la scuola del teatro stabile qui, ed era il mio primo film, e quindi l'ingresso al cinema non poteva che essere dei migliori, veramente con Berlino, la candidatura al Davide, è stata un'atmosfera, un ingresso trionfale nel mondo del cinema. E poi fare un film con Davide, che stimavo tantissimo, per me era la realizzazione di un sogno, poi questo sogno è continuato in altre derive, però è stato un film che, anche io erano vent'anni che non lo vedevo, però ha una delicatezza, un amore, un garbo, si racconta una storia d'amore, ma in maniera delicata, e ci entri dentro pian piano, e poi vieni calamitato all'interno di questa storia, e quando finisce dici, ma è finito? Avresti voglia, appunto, di vedere un seguito, ecco, che dopo vent'anni, no Giorgio? Come se non avessi detto nulla, è lasciata lì... No, no, è tra le righe, perché vuole leggere qualcosa... Ma per carina... Scusate, se quelle del quale, nel caso tu non faresti parte, per ovvi motivi, narrativi, visto che sei morto nella tecnologia, la fantascienza... E' pur vero che... No, no, ma hanno fatto risorgere che... Ciro Esposito, quell'altro, quello di Gomorra, che è data una stagione all'altra, quindi potrebbe risorgere anche lui. Beh, a Beautiful l'hanno fatto risuscitare per centinaia di personaggi. Giorgio Pasotti... Anch'io sono risuscitato un paio di volte. Ecco, vedi. Morto tante volte e hai risuscitato due. Quindi si può fare, insomma. Però la domanda d'obbligo, la devi rispondere. Allora, io ieri ho guardato veramente il film affascinato da questa grande libertà che secondo me Davide ha avuto nel farlo. E' evidente che si è divertito lui per primo e ha lasciato, come dire, spazio alla creatività. Ha messo tutto quello che lui, secondo me, desidera, ama del cinema. E in questo senso arriva la poesia, la delicatezza. L'amore è un atto d'amore verso il cinema, verso questa città. Ed è stato fatto anche, secondo me, con... Soprattutto credo da parte nostra, parlo degli attori con grande incoscienza, ci siamo totalmente abbandonati a Davide, l'abbiamo seguito, nonostante non ci fosse una sceneggiatura, come dire, ben precisa, ferrea. C'erano dei canovacci, non c'era proprio una scena, c'erano dei canovacci ai quali noi la mattina, cioè la notte in realtà, perché giravamo sempre di notte, ci abbandonavamo all'istruzione di Davide. Però ho trovato un film completamente poetico, ma fatto nella totale libertà. E questo è cosa rara, secondo me. Intanto, bravo Davide che si è permesso di fare un film così nella totale libertà, che insomma non... Credo che sia qualcosa di meraviglioso, poter gestire, poter fare quello che uno vuole, lasciarsi andare veramente alle proprie emozioni. Ed è un film che è pieno di dichiarazioni d'amore verso il cinema, è pieno proprio di cose, non me lo ricordavo così pieno di piccoli particolari che ho riscoperto ancora ieri, è vero che non lo vedevo da tanto tempo, ma ci sono state cose che mi sono sembrate nuove. E soprattutto ci sono state cose che io ricerco come spettatore in un film. Per cui l'ho guardato con una fascinazione davvero quasi nuova. E ho capito, forse veramente con estremo ritardo, il motivo per cui questo film è andato così bene, soprattutto anche fuori dall'Italia. Perché è un film colto, è un film molto alto, è un film che le persone che amano il cinema non possono non vedere, non possono non amare. Mi permetto di aggiungere una cosa, perché penso che sia anche questa parte, veicola dei messaggi anche molto profondi, al di là dell'amore o delle cose, senza nessuna spocchia, che non è scontato, perché tante volte uno passa dei messaggi o passa un sentimento, e invece passa attraverso la testa o l'idea che uno abbia capito delle cose e te le debba spiegare. Invece è un film che ha un linguaggio che arriva dritto al cuore, e quindi si dicono delle cose, sono donna, perdonatemi, sono giorni particolari, mi permetto di dire, l'angelo che dice, sì, non la voglio perdere, ma non la voglio tenere, che non è scontato, però viene detto con una gran leggerezza e passa dentro una cosa in cui succedono delle cose che sono raccontate come una favola, ma sono dei messaggi importanti. Sì, sicuramente. C'è qualche domanda dalla sala? No. Fatemi una domanda sul training degli attori. Allora, ho una curiosità, Davide Ferrario, come hai lavorato insieme agli attori, quello che viene definito il training? Grazie per la domanda. Giocavamo a basket, lo ricordate? Certo. Tema per training con gli attori e nelle grandi partite a basket. Ti ricordi? No. Io sono completamente negata per un certo di voi sport, mi hanno obbligata un giorno andare a giocare a basket, sostenendo che ci dovevamo anche menare durante la partita, cioè ci doveva per forza essere questo contatto fisico. Io ero disperata, non sono riuscita a fare manco un canestro. Giocavo con Fabio, mi sa? No, giocavo con me, ovviamente. No, con te, certo, perché se io schiappa, e loro due contro di me, il sottotesto era che loro non potevano tentare di battere il regista, quindi c'è un certo giochino qua anche. Anche con la schiappa il regista era meglio, insomma. Oltre a altre questioni di cavalierato, ma no, adesso, detto seriamente, no è vero, giocavamo a basket, cioè io non so, il mio rapporto con gli attori, mettersi lì e parlare, dire sì, ok, bisogna farlo, eccetera, però io credo di avergli dato delle indicazioni abbastanza rudimentali. A lei, per esempio, gli facevo sentire Marlene Kanz, perché ha detto, secondo me, quel personaggio ascolta quella musica lì e derivi la tua sensibilità da quelle canzoni. A lui, io ho fatto ovviamente vedere Buster Keaton, a Fabio non mi ricordo ben parlavamo di un Diego Abbatantono di periferie, cioè dei punti di riferimento, ma però la roba, poi quando si parla si è sempre delle persone diverse, secondo me, invece quando fai delle cose, quando si gioca, si è altri. E allora, per vedere la loro fisicità, piuttosto di stare lì a fare le prove, eccetera, che facevamo anche, senti Dio, ma basket, io l'ho impallinato col basket, devo dire, e li portavo a giocare, avevamo io e lei, oppure a un certo punto abbiamo trovato della gente in impaletta, abbiamo anche, mi ricordo di una grande vittoria, dopo mezzanotte con il resto del mondo, deve essere stata una roba del genere. Esatto, una grandissima vittoria importante, ricordo ancora. Ma perché così venivano fuori davvero le espressioni e la fisicità, cioè io giocavo, certo per giocare, ma li guardavo molto e quella roba lì poi credo davvero nel fin si è finita e davvero fa parte di una roba che poi dopo non so se mai abbiamo più fatto. Con te ho giocato un sacco di volte a basket. Mi ricordo anche una volta abbiamo convinto Mastandrea, l'abbiamo portato in un campetto di periferia a Roma a giocare a posto, vabbè, senti, di liri lì. Però, c'era davvero un po' di follia ma molta libertà in quel modo di lavorare lì, perché non ci stava nessuno addosso. era il primo film che producevo, non dovevo rendere conto a nessuno di quel che facevamo. Sì, appunto. Ah sì, era il padrone assoluto della cosa. Sì, potevo fare quello che volevo e quello che volevo non era anche abbastanza incerto a certe volte, ma la scoperta continua, quotidiana, era divertente di fare questo film. e poi, però c'è al fine dopo tutto questo, si dice a converso, ciò passato di convergere qual è? Comunque, in un lungo, lunghissimo montaggio, ci sono stati otto mesi, se uno guarda la prima versione del film era totalmente diversa da quella finale. Però io penso che la mia idea di cinema è questa, stare sul set di meno, lavorare di più in montaggio, e avere sul set la massima libertà per portare a casa più roba possibile e capire dopo cosa hai fatto. Domande? Eccone una. Ce n'è un'altra? Facciamo dopo. Tanto l'hai visualizzata, no? Io no. Ecco perché. Sì, buongiorno. Volevo chiedere com'era stato girare all'interno del Museo del Cinema proprio da un punto di vista, visto che un museo durante il giorno c'è un flusso di persone che entra e esce, voi avete utilizzato la notte, è stata una scelta mirata al fatto che era un museo quindi visitabile, è stata una scelta legata al fatto del mondo onirico e quello che nessuno vede dentro al museo e com'è stato accolto poi dal museo la proposta di girare un film al suo interno di finzione anche. Beh, le due cose vanno insieme, nel senso che era evidente che nel momento in cui ho pensato di girare alla mola averlo come location principale non potevamo lavorare di giorno, cioè non avremmo potuto fermare il museo e viceversa se ci infilavamo nel museo aperto era ingestibile. Da lì l'idea di girare di notte e quindi tutta l'idea di chi ci sta di notte in un museo, un custode notturno, il custode poi portava a un personaggio femminile che possibilmente il più lontano possibile come dalla natura di quell'altro e alla necessità di un antagonista. Veramente è nato un pezzo alla volta così tutto condizionato. Come era? Tanto devo dire grazie al museo perché era riscaldato e non sembra ma è una roba che si lavora di notte in inverno e poi si era un po' a sud noi entravamo alle otto di sera e uscivamo alle otto di mattina che arrivavano quelli delle pulizie e niente facciamo pausa pranzo tipo alle due di notte e mi ricordo le sedie rosse del museo ecco tutta la truppa addormentata perché dopo che immagini cosa fai dormire c'erano queste immagini tra l'altro c'è anche una sequenza del film che vede Fabio Troiano adagiato dormendo ecco immaginate che tutta la truppa era solo un dopo pausa quello esatto no era era affascinante però perché eri un po' come Martino possedevi quel posto lì ci veniva in mente mi veniva in mente di girare andiamo su lassù però tutti si partiva da quella parte era proprio una roba davvero una specie di grande playground o luna park in cui ti muovevi c'è la nostra collega che vorrebbe farti grazie veramente sono due ieri sera la seconda 10 euro da ieri ormai c'è questa legge ferrea pagherò non c'è stato tempo per dire come mai è stato e come è stato scelto Silvio Orlando come voce narrante la curiosità infatti Silvio è fondamentale in questo film anche se non lo si vede mai appunto il montaggio non era previsto una voce narrante nella qualsiasi cosa fosse quella cosa su cui abbiamo lavorato all'inizio il film doveva raccontarsi da solo e invece non si raccontava da solo ad un certo punto mi è venuta l'idea che in una messa in scena che era una messa in scena di una messa in scena cioè ispirandosi al cinema muto non è che tu ci credi a quelli del muto sono sempre un po' sopra le righe e quindi hai un gioco con lo spettatore per cui c'è qualche d'uno che ti può suggerire delle cose anche se non lo vedi e così è nata l'idea della voce fuori campo tra l'altro vedevo mi ero dimenticato se scorrete i titoli di coda nei ringraziamenti vedete Silvio Orlando Marco Paolini perché la prima idea era che ci fossero due voci fuori campo fortemente connotate dal punto di vista regionale Silvio Orlando e il Veneto Marco Paolini mi ricordo poi se l'ho ringraziato perché l'abbiamo anche registrata ma non sono finita spero che l'abbiamo anche pagato no ma sul pagare è divertente questa cosa con Silvio perché lui non ha visto il film io gli ho detto Silvio lo conoscevo perché avevamo fatto insieme i figli di Annibale ci eravamo molto frequentati in quel periodo e gli ho detto senti fammi in favore mi serve una voce fuori campo vorrei che fosse la tua però ho tempo no vengo io col fonico a casa tua e la facciamo lì e così andò cioè lui ci mise due ore senza aver visto il film e io gli davo le indicazioni e alla fine di queste due ore gli ho detto senti come posso sdebitarmi soldi non ne ho perché il film l'ho fatto con 32 lire quindi posso darti una quota del film se vuoi e lui ci ha perso un po' e secondo me non aveva la minima fiducia in quello che aveva fatto disse no preferisco che tu sia in debito con me dopo quando ci rivediamo un anno dopo il film era stato venduto in tutto il mondo dice ma avessi fatto quella sì infatti è così è rimasto vedi lungimiranza vai seconda domanda la scena del tappo è voluta o è stato un meraviglioso imprevisto questa la racconto a loro e penso sia abbastanza palese che è stato un grandissimo imprevisto nel senso che anche ieri a cena poi ne abbiamo ricordato questa scena praticamente c'era questa bottiglia da di spumante da da stappare e il tappo non veniva via e io continuavo a provare ad aprire questa bottiglia nessuno dava lo stop essendo il mio primo film ed essendo lì pendevo dalle labbra di di Davide come giusto che sia che un attore in realtà dovrebbe fare se si trovano le sintonie ovviamente visto che Davide non dava lo stop io continuavo e continuavo ma sto tappo non si apriva e da lì è venuta fuori quella scena che si vede nel film adesso col senno di poi un attore un po' più no appena non si apre scusate non si apre il tappo la bottiglia cambiamo scusate eh ma sì però dai cioè no te la meni mille volte invece lì come diceva prima Giorgio buttarsi totalmente nel film è anche quella è anche quella cosa lì anche perché se non ricordo male poi è stato sistemato il tappo abbiamo provato a girarne un'altra come sarebbe dovuta essere ma faceva schifo e quindi nel film ovviamente è andata perché e a proposito di riconoscersi ieri sera ridevo mi sono resa conto che ridevo nello stesso modo è stato molto buffo cioè perché quella era proprio la mia risata l'ho notato anch'io in effetti quindi no no ecco se posso aggiungere una cosa su quella è tutto vero questo poi dopo però c'era anche un elemento tecnico interessante e cioè che avendo noi lavorato in alta definizione che era il primo film che si girava in quello allora c'era la scena funzionava effettivamente cioè non mi ricordo cosa dovevate dire ma sicuramente è una roba che era molto più pallosa di quello che è successo c'era quel una cosa che succedeva faceva ridere lei sbloccava la situazione e andava avanti però era un take unico era un piano a due e il ritmo della scena come era venuto era divertente in sé ma il montaggio necessitava di un build up di un crescendo diverso costruire sull'attese campi contro campi vedere questa cosa che non si sblocca e lì l'altra definizione fu fondamentale se avessimo girato in pellicola avrei dovuto girare il masterino a due e poi questo uno di qua e uno di là invece l'altra definizione ci permetteva allora si fa molto più facilmente con lì 4k eccetera ma anche lì ti poteva potevi ridurre del 40% l'inquadratura senza perdere definizione per cui da un master a due veniva fuori un campo e un controcampo e lì il cinema è praticamente una mescolanza di cose che arrivano da punti molto diversi questa totale improvvisazione ma anche un aspetto tecnologico e il regista ci sta in mezzo siamo arrivati alla fine io si pensava prima a un prequel o a un futuro io la butto là a questo punto col passare degli anni sarebbe molto più giusto fare magari dopo mezzogiorno stavolta grazie a tutti lasciatemi solo davvero ringraziare ancora il museo perché non solo perché c'era all'inizio perché c'è stato adesso e hanno finanziato quello che poi non è un restauro in senso tecnicamente stretto ma la possibilità di avere un dcp del film che se no non era visibile era finito dentro in una quel limbo di film girati in digitale ma finiti in pellicola c'era solo il negativo e nessuno ormai proietta più il 35 e adesso col dcp a disposizione il film è di nuovo visibile a chiunque lo vuole fare quindi grazie al museo finiamo con un grazie 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 grazie